Grazie a tutti 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 invitarono mediante Adicofe, con este Todos Distintos, Todos Iguales, che mi parecio una proposta molto interessante per encontrarnos, per manifestare a través della musica lo che sentimos portando juntos e questo di compartire la musica, che sicuramente enriquece non solo il alma, ma anche che si proieta alla cittadinanza, con la gente che viene, con il mensaggio che abbiamo a través delle canzioni e perché in definitiva, io almeno sono convencita che il arte ci può salvare. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!